Allora amici, forse è annullata la Gran Pondo di Siena, strade bianche, siccome al momento in cui ve lo diciamo non è detto, però la strada è quella perché hanno chiuso le scuole, il pericolo comincia a essere un pochettino da tutte le parti d'Italia, quello è un raduno di tutta la gente che arriva da tutte le parti d'Italia, 8000, se sta spalla a spalla, tutti sudati, allora potrebbe essere un potenziale pericolo. Mi volevo portare su pure 1100, leva questa mano, un metro di distanza, leva questa mano, allora Maurizio ha detto, io però come tanti altri cosa ho fatto? Mi è venuta un'idea, visto che ho l'albergo prenotato, io parto sabato pomeriggio, quindi Maurizio dice se l'annullano, se l'annullo io parto uguale, dormo a Siena, mi sveglio la mattina e chi vuole venire io alle 9 della mattina sto a piazza del campo, 9, raduno, 9 e un quarto, si parte tutti insieme, si fa il giro da solo a passeggiare tutti insieme, senza che nessuno attacca, senza che nessuno... Quindi cambia il concetto, non si fa staccare, non si parte tutti insieme, un grande numero di persone, è un raduno di persone più moderato, saranno qualche amico che ha già prenotato, qualcuno che è di siena di intorno, qualcuno che si può fare la passeggiata, che non vuole buttare via la notte d'abbergo già pagata, si fa un weekend tutti insieme, fate lo stesso percorso però, è pure un appuntamento magari che vuole stare insieme, quindi qualora fosse annullata, rimanete... L'appuntamento viene anche la web star Mirko Di Febbo, viene anche lo youtuber in biker, quindi siamo un gruppetto di youtube... Quindi qualora fosse annullata, e poi l'evas temati un'ore qua, allora, se allora fosse annullata, voi rimanete collegati col canale di Maurizio, che col cellulare farà un appuntamento volante sicuramente a piazza del campo, sotto il bar, sotto la torre, a una determinata ora... Adesso se c'è conferma di questa cosa, poi vi vengo aggiornati sul mio canale, farò altri video, e ci troviamo tutti a piazza del campo, Può essere che vi divertite pure di più della gira, almeno siete tutta gente che ci avete in comune una passione per youtube, o che già vi siete visti, quindi potrebbe essere pure più divertente. Ragazzi, qualora l'annullano, invece di partire tutti insieme come sarebbe stato, un piccolo gruppetto dei fans di Maurizio, se la possono fare... Invece di partire tutti insieme a fare la gara, chi vuole venire... Diventa la passeggiata, passeggiata però con lo stesso identico percorso... Un raduno con le web star, diciamo... Beh, però passeggiata e tocca andare al ritmo dei passeggiata... Tutti insieme, tutti insieme, nel senso che nessuno va a flotta, tutti insieme, dai... Quindi se va a velocità della flotta, più lento della flotta se segue... Ok, non dè... Ma tanto a tutta gente che corre, gente che pedale, non è che gente... Vabbè, però uno deve adattare un attivito al limite, lo stacchi e poi dopo ci si dà un appuntamento a una d'app intermedia... Magari si fanno i tratti sterrati, ognuno a pasto suo, e l'asfalto è tutto insieme, dai... Eh, l'asfalto è tutto insieme, il tratto sterrato, con una pausa, vi date un appuntamento a un bar... Tu vieni? Tu vieni? No, no, io no... Perché? Tu stai in quarantena? No, c'è la batteria a scarica della bicicletta... Pollici in su, sempre... Ciao, mi dici...